E' da non credere, ma io all'inizio non ero neanche convinto. Invece se i scelmi hanno conquistato con i tramonti, con questa atmosfera incredibile, con il mare, con la forza selvaggia dell'oceano, è stata un'esperienza veramente indimenticabile. Una forte emozione, soprattutto osservando i tramonti, questa vegetazione travolgente, davvero suggestiva, un ricordo che porteremo nel cuore per sempre. Per quanto riguarda Sei Villas, devo dire che sono stati fondamentali per realizzare tutti gli aspetti della vacanza, per poter scegliere la location giusta, per poter risolvere i problemi pratici e organizzativi. Veramente grazie. Sei scelmi, Sei Villas. Grazie. Grazie.